Si chiamava Nicolas Nanut, aveva 30 anni ed era residente a Cormons, la vittima dell'incidente sul lavoro che si è verificato la notte scorsa all'interno dell'APS Arosio Extrusion, azienda che produce laminati in acciaio nella zona industriale di Mariano del Friuli. I carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria che stanno svolgendo i rilievi per conto della Procura della Repubblica hanno disposto a sequestro dello stabile dove è avvenuto l'incidente e la conseguente sospensione della produzione. L'allarme è stato lanciato da un collega che lavorava sul medesimo macchinario. L'incidente sul lavoro è avvenuto verso l'1.30. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre lavorava con un macchinario, l'operaio è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo, i vigili del fuoco e i soccorritori sanitari con un'ambulanza e l'elisoccorso. Inutili le manovre salvavita. Per l'uomo è stato dichiarato il decesso.